Sono sicuro al 99% che saresti in grado di salirci su e arrivare in cima alla statua prima che esplodano. E il restante 1%? Beh, in quel caso, Sly, penso che finirai in mille pezzi. Ma sarebbe senza dubbio un'esperienza veramente spettacolare. Bene. Bene, per sbloccare quei missili ora ti serviranno tutte e cente le chiavi del tesoro di Panda King. Perfetto, le ruberò in un attimo. Perfetto, le ruberò in un attimo. Questo veicolo è identico a quello che abbiamo trovato nel covo di Miss Ruby. Perfetto, le ruberò in un attimo. Perfetto, le ruberò in un attimo. 이러 molto attimo. Attenzione, stimati operai. Mi è giunta notizia che un ladro si nasconde da qualche parte all'interno dell'impianto di produzione di fuochi artificiali. Vi prego, cercate di fare la vostra parte eliminando a vista quest'intrusso. Grazie. 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 Grazie.